ok praticamente anche se sul canale non verranno caricati così i video lo confesso perché praticamente tra i video in cui avete visto che ho sconfitto radan è questo io ho fatto tutte quelle altre live perché non ce la facevo non ce la facevo ad ucciderlo e come avete visto se non fosse stato per quello che ho evocato non ce l'avrei fatto mai quindi continuiamo adesso mentre blade mi ha detto di andare direttamente dove è caduto il senso sviluppato il punto rosso ha detto vai prima a parlare con ranni e noi andiamo da ranni questo è l'ingresso sì ok per sbaglio scoperto non varia ma quando va ha detto una cosa sbagliata ranni non mi cacca neanche di strima quindi sapete che vi dico una volta conosco un fritto un nemico del genere viene anche la curiosità di vedere lei che cosa mi dice l'albergo del soggetto che cosa mi dice niente spazzone del flagello celeste vuole 38 di forza fisica ok non c'è stato la città spazzone no no non belle le spalle e pesano anche tre chili e pesa anche tre chili meno rispetto a questo ora c'è un pochettino l'informazione ad item la prossima volta che verrà online perché dice spadone e poi solleva le spade ma domanda se il riscatto lo spadone me ne da 1 o mi da la coppia so che può sembra una domanda stupida ma per me non lo è qua è spuntuto qualcuno no vabbè qua non è spuntuto nessuno e allora cosa possiamo fare no Grazie a la capitale, Layndelle, a l'estate del alto plateau, a l'estate dell'Erdtree. La due fingerenza dimenticare il tuo passaggio. Tu potrebbe essere la nostra speranza. Findi il modo in l'Elden Ring. Morgot è il polo dei segni dei anelli. E quindi? Oh, mi scelgo per questo. Nel senso Enxia è venuto più avanti a lui, come il suo maestro. Voglio esprimere i miei regret. Ma ora, Enxia è scoperto e fuori. Finito. Per sempre. Ah, scusate, chi è Enxia? Ah, era il tizio davanti alla porta che mi aspettava. Quindi, ucciso, ucciso, ucciso. E ma era qui? Il tizio davanti alla porta del Volcano Manor, a Mount Gelmere. Il è un valore di giustizia, che comandano una squadra di inquisitori. Ravigliati per il suo serpente dimenticare. Il Volcano, a Mount Gelmere, è in l'estate dell'Eltre Plateau. Il rielo dell'Erdtree. È stato il momento di una battaglia più avanti. Il rielo dell'Erdre Plateau, che si è iniziato a prendere il rielo dell'Erdre Plateau. Ah, dove dovrei andare? Ma prima mi dici di andarci, poi mi dici di non andarci Deciditi Allora, questo è il monte dove... che già ho iniziato ad esplorare Questa invece è la città a destra Che se ne può andare a fare... che se ne può... Vedi Qua Si scende fino qua Ok, guarda, si intravede una galera qui Quindi ancora c'è il delirio ad esplorare Qua è finita Ma da questo lato c'è il delirio ad esplorare Allora No, inoltre continuiamo con la quest di run, allora E mi ha suggerito... Izer Izer Andiamo di là Qua... Il tizio è ancora seduto E sta pensando ai fatti suoi Vediamo cosa sta... Qua abbiamo comprato tutto, eh... Qua non c'è più niente che mi interessa... potremmo comprare questo Cioè mi sembra quel segno rosso dove c'è... Tizio che mi attacca Ma non c'è niente... Cioè almeno... Andiamo appena di sotto... Appunto per dare un'ottima occhiata No, come posso dire che il padre ha ottenuto ora? Allora... Cratero della stella cadente pronti sette un secondo che devo controllare una cosa vabbè andiamo avanti giusto se non ci metto un puntatore in automatico non mi dice non pensa pittoso sia no vabbè no 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 vabbè stavo cercando la levetta quando ci arrivo a me dalle cuffe dimenticandomi che l'avevo appena fatta ho traditore sistemato verso no con dunque vai avanti tu io ti lo aggiungerò ah un messaggio di blade ah un messaggio di blade meglio mi sembrava che di qua c'era invece il percorso no abbiamo scherzato non 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 ma non andiamo avanti ma stai scendendo in là come sempre ma stai scendendo in là ma no che scendiamo diventando sempre più buio giustamente comunque di cui non si scende più si dovrà andare da quel lato fungo lì sciolto perché sono un senza luce io che ce la luce? vabbè vabbè questa mano poteva rispondere a me wow ok ci proviamo mamma mia sto per cadere ma non me ne vipaggio perché sono un po' di osorir ecco sei un palito scusami ma forse di cui non si ci può tornare sai stai scendo dalla zona principale ma speritavo che sa cosa e se stai scendo davvero ma speritavo che scendo Grazie a tutti Sono dei nemici senza forma Grazie a tutti Non lo puoi lisciare Ce l'hai davanti Inboscata Più avanti confusione Come si chiama sto posto? In questo posto Inboscata 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 Devo saltare di qua. Ok. Ok. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Quindi siamo praticamente in quel castello che si vedeva in alto No Alla prossima Ok Alla prossima 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 Un Alla prossima 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 Perché prevedo un massacro? Quindi prevedo un massacro? Grazie a tutti. 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 Eh sì, lo so. Te l'ho appena fatto di davanti e davanti. Ah, è il boss miniatura che c'era... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, a mio rischio è pericolo, ma l'ho ucciso. Non mi ha dato... Niente. I cani sembrano che gli altri lupi siano scappati. Ma stanno correndo per i fattini. L'ho ucciso. E' un sacco. 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 A quanti cavolo sono? Grazie. Grazie. Quante bestie non mi vedi. Grazie. Grazie per aver alzato la testa. No ma comunque sto posto è immenso. Potevo prendere più rincorsa e invece... Nooo. Siamo... ...dialmente. Poi. Ok. 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 Il soro tomba! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che fregatura. Grazie. 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 Grazie.